Il 48% degli italiani online ha cambiato il proprio giudizio su un prodotto e servizio dopo aver letto un giudizio positivo su internet, ha cambiato la propria decisione d'acquisto. Il settore dei viaggi turismo è uno dei settori più affetti, influenzati dal passaparola perché dopo l'elettronica di consumo e gli stessi ristoranti è quello che subisce più di ogni altro la comunicazione peer to peer. Quindi un giudizio positivo di un altro viaggiatore ha influenza sulla scelta di una meta, di una struttura ricettiva alberghiera o anche di un ristorante.